Vorrei ringraziare la società per la fiducia, per aver creduto sempre in me e soprattutto anche allo staff, ai giocatori che mi hanno aiutato sempre. Sono arrivato qua a luglio, subito facendo il ritiro con la prima squadra. È stata un'esperienza bellissima, perché negli anni scorsi non avevo così tanto contatto con i giocatori grandi, quindi ho imparato tantissime cose. È stata anche la prima panchina in Serie A, questa. Appena mi sono seduto speravo magari di entrare. È arrivato quel momento, è stata una cosa bellissima. Il mister Mazzari vorrei ringraziare per l'opportunità che mi ha dato per i consigli nei questi mesi. Lui è un mister che guarda molto i dettagli, ci parla tanto e mi dà tante indicazioni. mi prepara al meglio possibile per la gara. Ma la fiducia la sento molto anche da parte di mister Agostini, a cui vorrei ringraziare davvero per il lavoro in primavera. In difesa c'è stato sempre Ramos, perché è un giocatore davvero straordinario. L'altro idolo, che non è il mio ruolo, ma comunque un idolo è Cristiano Ronaldo, di come lavora, fa tutte le cose che mi ispirano sempre. In questo momento guardo molto Bastoni. Anche lui è Mancino prima di me e anche qua ogni giorno è la scuola, perché imparo dai grandi giocatori che ci abbiamo qua in squadra. Dobbiamo adesso essere tutti uniti per raggiungere la salvezza. Sono convinto che se continuiamo così non c'è da preoccuparsi. L'obiettivo personale mio è sempre lo stesso. Lavorare per migliorarmi ogni giorno e contribuire alla salvezza della squadra. Saluto tutti!